A Domenico Illud che arriva a Salvana ti tocca a vincere il campionato. Sarebbe veramente bello, è difficile ma a parte gli scherzi noi ce la giocheremo con tutti sicuramente sfruttando pesta ai tifosi, qualche soddisfazione ce la possiamo togliere. Qual è il gene saldanese che hai colto da avversario e cosa stai trovando ora nell'approcciante a questa nuova vita? Qui è sempre stato difficile giocare perché come ha detto il gene saldanese è quello della lotta, lottare su tutte le palline e vender cala la pelle, quindi è quello che faremo sicuramente. Grazie 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 Grazie